Con la tecnica del tunnel, che è una tecnica molto particolare, che nasce appunto dalla scuola del professor Curi e che sfrutta la possibilità di eseguire tutto l'innesto con un'unica incisione che viene fatta verticalmente sull'aspetto mesiale al difetto e che permette di ottenere una continuità tessutale anche durante la chirurgia per ridurre tantissimo quello che è il rischio di deescenza nella fase di guarigione dei lembi. Questo è ovviamente possibile e trova una sua applicazione massima quando la base del difetto è larga e lo capiremo a breve guardando ed analizzando i casi clinici perché quando la base è larga la tecnica di Curi con la lamina posta a definire la nuova dimensione occlusale dell'innesto, cioè tra il picco osseo mesiale e quello distale, questa lamina viene posta e dà stabilità primaria al materiale sottostante solo se la base è effettivamente larga. Se invece abbiamo anche un piano di clivaggio perché esiste un difetto di tipo orizzontale associato, questo tipo di soluzione è meno vantaggiosa, ma lo vedremo a brevissimo. Quindi mi aiuto adesso con la lavagna per essere più chiari. Se immaginiamo di avere la parte vestibolare e la parte palatale così distribuita a livello del nostro schema, noi possiamo trovarci di fronte alle due condizioni che abbiamo visto, cioè il gruppo 3 dove abbiamo solo un deficit verticale non orizzontale e il gruppo 4 dove abbiamo anche una componente orizzontale. Ma questo ha un'implicazione nella tipologia di tecnica o di adattamento delle lamine secondo la scuola di Curi perché cambia l'apporto nella dare stabilità primaria all'innesto dato dalla base del difetto, ovvero noi possiamo avere il difetto residuo che ha una base larga e questo favorisce tantissimo quella che è la gestione dell'innesto perché? Perché ci permette di costruire quella famosa L, cioè di ottenere una lamina ossea verticale che fa da picco alle, che fa da ponte tra i due picchi ossei, ovvero se andiamo ad esagerare nella distribuzione dei nostri picchi, noi cos'è che evidenziamo? Che la lamina ossea potrà essere distribuita in questo modo, quindi fa da ponte tra i due picchi ossei e in sezione a questo livello la vedremo come una struttura posta a questa distanza e capite bene come questo tipo di difetto dia stabilità primaria all'osso particolato che vado ad interporre. Quindi l'osso particolato che andrà a riempire questo spazio ha stabilità data dalla base del difetto. Nella condizione in cui, oltre alla componente verticale, ho una componente anche di tipo orizzontale, la stessa soluzione determina una condizione dove una parte del materiale sottostante si trova in una condizione di scivolo, che è questa. Quindi potenzialmente in una situazione di instabilità. Quindi la tecnica che andiamo a vedere, che è una tecnica a tunnel dove tutta la chirurgia viene fatta su un'unica incisione che ha una posizione di questo tipo rispetto al difetto. Quindi si trova nella zona anteriore al difetto, quindi abbiamo una continuità di tessuto a livello di questa parte, quindi l'incisione qui viene tutto tunnelizzato. È ovvio che è una chirurgia, chiamiamola a cielo chiuso, quindi vediamo poco, e trova la sua maggiore indicazione quando la base è larga, perché questa ci aiuta a dare stabilità primaria. Se abbiamo una base stretta il rischio è di non percepire delle zone di instabilità dell'innesto e quindi poi leggerle nella fase di guarigione, quindi di rientro per inserire degli impianti, come zone dove non abbiamo ottenuto rigenerazione. Quindi è molto importante selezionare in partenza la tipologia di difetto che andiamo ad affrontare, soprattutto se vogliamo farlo con la tecnica tunnel. Quindi vediamo questo tipo di approccio chirurgico applicato a queste condizioni cliniche che abbiamo adesso definito, da un punto di vista di difetto e morfologia del difetto. Vediamo questa paziente che presenta dei deficit da un punto di vista dentale nei settori posteriori, una linea del sorriso scoprente, ha già avuto un'esperienza a implantare, lo vediamo a livello del canino superiore di destra, e presenta delle atrofie nei settori appunto latero-posteriori. Un difetto appena appena verticale ma più orizzontale nella zona del quadrante di destra, mentre presenta un difetto verticale a base larga nel quadrante di sinistra. Vediamo l'immagine panoramica dove è evidente quella che è una leggera discrepanza verticale, quindi con la necessità di coinvolgere il seno mascellare a livello del primo quadrante, e invece una discrepanza verticale più marcata e predominante rispetto a quella che è il livello del del pavimento del seno mascellare. E quindi in una situazione del genere il recupero del difetto in cresta va a determinare anche la non necessità di lavorare a livello del seno mascellare. Se noi vediamo maggiormente nel dettaglio il difetto possiamo apprezzare il picco osseo mesiale e il picco osseo distale. Il picco osseo distale che non è così generoso come potrebbe essere, se andiamo a vedere quello che è l'aspetto distale di questo dente del giudizio che comunque verrà estratto al termine del trattamento, però comunque il picco osseo distale presente è un picco osseo assolutamente sufficiente che ci permette di andare ad intervenire. Ecco ad un alasi con BIM vediamo come il deficit sia intorno ai 6 mm per una lunghezza mesio distale di 21 e capite bene che questo è anche l'adattamento che troveranno le lamine, quindi la prima lamina farà da ponte tra il picco osseo mesiale e quello distale mentre la seconda lamina andrà a chiudere lateralmente questo box. Vediamo anche molto bene come la creazione di un volume osso in cresta che considerando la cresta residua raggiungerà circa gli 8 mm sia assolutamente adeguata per l'inserimento di un impianto anche a livello di questo primo molare senza la necessità di coinvolgere il seno macellare. L'altra analisi importante che mette in evidenza la fattibilità del trattamento, questo è l'andamento mesio distale del difetto, è che la base sia costantemente larga e questo favorisce perché immaginandoci la lamina ossea che fa da ponte tra il picco osseo mesiale e quello distale, la base sottostante ci aiuta a determinare la stabilità del materiale stesso. Vediamo come nella zona del primo molare sommando il deficit crestale all'osso residuo ci permetta di poter immaginare l'inserimento di un impianto senza il coinvolgimento del seno macellare. Andiamo quindi a vedere clinicamente come viene eseguita questa chirurgia. Quindi vediamo quella che è la situazione clinica di questo difetto. Abbiamo il picco osseo mesiale, abbiamo il picco osseo distale. Tradizionalmente dovremmo affrontare questa chirurgia con un'incisione in cresta che può essere più o meno traslata sull'aspetto vestibolare. La tecnica tunnel invece prevede un'unica incisione sull'aspetto mesiale come se fosse un'incisione di rilasciamento mesiale al difetto. L'unica nota del, chiamiamola negativa, di questo tipo di incisione è che l'incisione stessa da un punto di vista parodontale non è un'incisione ottimale per il dente perché molto spesso può determinare in una situazione soprattutto di biotipo sottile, di festonatura anche dell'attacco, dell'andamento gengivale di avere una recessione sull'aspetto distale. Quindi è dedicata soprattutto a un biotipo magari gengivale spesso dove una banda di gengiva keratinizzata è ben rappresentata, lo vedremo poi soprattutto in fase di sutura che implicazioni ha questo tipo di riflessione, ma soprattutto nelle settori latero-posteriori. Vediamo quindi quella che è la fase chirurgica, vediamo sempre un'analisi di quelli che sono i picchi, quindi questo sarà il livello osseo che vogliamo ottenere valutando appunto quella linea immaginaria di unione tra il picco osseo mesiale e il picco osseo distale per quell'incremento osseo intorno ai 6 mm che è stato previsualizzato a livello radiografico. L'incisione parte intrasulculare sull'aspetto distale del dente, non procede a livello palatale e ha un'incisione diagonale sull'aspetto vestibolare mesiale al difetto stesso. Questo tipo di incisione sarà l'unica incisione che viene eseguita a livello mucoso e a livello gengivale che ci permetterà, tunnelizzando la gengiva, i tessuti a livello del difetto, di creare uno spazio per poter eseguire la chirurgia ricostruttiva però all'interno di un contesto altamente protettivo per l'innesto stesso perché non abbiamo una ferita che cade in corrispondenza dell'innesto e quindi il rischio di descenza è molto molto limitato. E qui vediamo molto nel dettaglio Grazie. 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 Grazie.